Mappe, infografiche e storytelling per valorizzare le realtà artigiane dell'agroalimentare torinese e piemontese. Con questo obiettivo è nato nell'ambito del Piemonte Visual Contest, progetto di Consiglio regionale Topics e CSI, il premio speciale CNA, destinato ai migliori racconti digitali e presentato nella sede torinese della Confederazione degli Artigiani. Si conclude oggi un percorso che ha visto la collaborazione di CNA col Consiglio regionale del Piemonte per il Piemonte Visual Contest. Sì, allora io ringrazio veramente tantissimo il Consiglio regionale del Piemonte per averci permesso di creare il premio speciale CNA. CNA Piemonte ha deciso di partecipare a questa edizione del Piemonte Visual Contest per premiare ed evidenziare le imprese di trasformazione alimentare. Quindi oggi si premia chi ha presentato il progetto che meglio valorizza le imprese alimentari del territorio. Il mio progetto è stato un progetto riguardante alcuni birrifici presenti nella regione Piemonte. Ho tentato comunque di essere magari un po' più fantasioso possibile nell'esposizione, quindi cercando comunque di creare un ecosistema che assomigliasse molto a quello di un libro, quindi come impaginazione e come presentazione. CNA Piemonte